Capitolo 20 Undici anni Eravamo tutti e quattro sopra un grosso telo sulla sabbia. Conrad, Steven, Jeremiah e poi io, sul margine. Era quello il mio posto, quando mi permettevano di seguirli. Quello era uno di quei rari giorni. Era già metà pomeriggio, faceva così caldo che mi pareva di avere i capelli in fiamme e i ragazzi giocavano a carte mentre io li ascoltavo di nascosto. Jeremiah chiese, preferireste essere bolliti in olio d'oliva o essere spellati vivi con un coltello arroventato? Olio d'oliva, rispose con sicurezza Conrad. È una fine più veloce. Olio d'oliva, gli feci ecco io. Coltello arroventato, disse Steven. C'è maggiore possibilità di cambiare le carte in tavola a danno del tizio e fare in modo chi sia lui a ritrovarsi spellato vivo. Quell'opzione non c'era, replicò Conrad. Stiamo discutendo su come morire e non di come cambiare le carte in tavola a danno di qualcuno. Va bene, allora scelgo l'olio d'oliva, disse scontrosamente Steven. E tu, Jeremiah? L'olio d'oliva, rispose lui. Ora tocca a te, Conrad. Conrad sollevò per un attimo gli occhi al sole e chiese, preferireste rivivere all'infinito un giorno perfetto o vivere una vita senza giorni perfetti, solo decenti? Jeremiah rimase zitto per un minuto. Amava quel gioco, amava rimuginare sulle differenti possibilità. Mi accorgerei di riviverlo quell'unico giorno perfetto, come nel film ricomincio da capo? No. Allora scelgo il giorno perfetto, decise. Beh, se il giorno perfetto implica... presi a dire Steven, ma poi mi guardò e smise di parlare. Odiavo quando faceva così. Anch'io vado per il giorno perfetto. Belli? Conrad mi guardò. Tu cosa sceglieresti? Pensai freneticamente per trovare la risposta giusta. Preferirei vivere una vita di giorni decenti. In quel modo potrei ancora sperare nel giorno perfetto, risposi. Non mi piacerebbe vivere una vita in cui si ripete all'infinito sempre lo stesso giorno. D'accordo, ma tu non lo sapresti, ribatteggere Maya. Mi strinsi nelle spalle. In fondo in fondo, forse sì. Che stupidaggine, disse Steven. A me non pare una stupidaggine. Io sono d'accordo con lei. Conrad mi lanciò uno sguardo di quelli che secondo me si scambiavano i soldati quando facevano squadra contro qualcun altro. Era come se avessimo unito le forze. Mi pavoneggiai un tantino con Steven. Fu più forte di me. Vedi? Gli dissi. Conrad è d'accordo con me. Steven mi fece il verso. Conrad è d'accordo con me. Conrad mi adora. Conrad è fantastico. Taci Steven! Gridai. Lui sorrise e proseguì. Adesso tocca a me fare una domanda. Belli, tu preferiresti mangiare la maionese tutti i giorni o rimanere piatta per il resto della tua vita. Mi girai di fianco, presi una manciata di sabbia e gliela tirai. Steven era nel bel mezzo di una risata e un po' di sabbia gli finì in bocca e sulle guance sudate. Urlò. Sei morta, Belli! Poi si fiondò su di me e io rotolai via. Lasciami stare! Gli ordinai con tono di sfida. Se mi fai male lo racconterò alla mamma! Sei proprio una rompipalle! Disse con disprezzo, afferrandomi brutalmente una gamba. Adesso ti butto in acqua! Io cercai di liberarmi, ma riuscii soltanto a gettargli altra sabbia in faccia. Questo ovviamente lo fece arrabbiare ancora di più. Conrad disse. Lasciala stare, Steven! Andiamo a nuotare! Sì, dai! Aggiunse leggere Maya. Steven esitò. Va bene, rispose sputando la sabbia. Ma sei morta comunque, Belli! Mi puntò il dito contro e poi se lo passò lungo il collo. Io gli mostrai il dito medio e saltai su, ma ero scossa. Conrad mi aveva difesa. A Conrad importava che io morissi o meno. Steven fu arrabbiato con me per il resto del giorno, ma ne era valsa la pena. Oltretutto fu parato.